Passiamo alla Pallamano, ora tocca all'Under 18 disputare le finali nazionali in programma a Merano. E dopo la storica vittoria dei ragazzi del Lagundo nel campionato italiano Under 16 di Pallamano, da giovedì si cerca di replicare. Sempre a Merano, infatti, da giovedì a domenica si svolgeranno le finali della categoria Under 18. A difendere i colori altoatesini ci saranno i campioni regionali dello Youngster Merano. Per Neghele e compagni un'occasione unica per migliorare la seconda piazza conquistata 12 mesi fa in quel di Agrigento. La concorrenza è più che mai agguerrita con Trieste e Conversano, avversarie ostiche e accreditate, ma il fattore campo potrebbe rivelarsi un'altra volta determinante. Lo scorso weekend, infatti, a sostenere i verdi e blu del Lagundo c'erano quasi 1200 spettatori. Un successo di pubblico che gli organizzatori sperano si ripeta anche nel corso di questo weekend. Del resto, nella categoria Under 18, il livello tecnico è addirittura superiore a quello dell'ultimo fine settimana e molti dei giocatori impegnati hanno disputato tutta la stagione nella massima serie.